Sì, è strano a dirlo, vedendo la decadenza fisica mia e di Alessandro oggi, giocavamo anche a pallone, ma io oggi sono venuto perché mi ha tirato il titolo, cooperare per l'eternità e quindi l'inizio della settimana aveva bisogno, vabbè che col derby la settimana è cominciata bene, comunque c'era bisogno anche di un ulteriore stimolo, lo dico perché fra primo e secondo tempo a San Siro è venuto il sottosegretario Morelli a gufare, visto come è andata mi auguro di rivederlo a ogni derby fra il primo e il secondo tempo perché è andato tutto a buon fine. Ma sono contento innanzitutto di essere in questo palazzo della vera e giusta cooperazione, di aver svolto il mio ruolo di vicepresidente del Consiglio, ovvero sia di aver portato una quantità di giornalisti, telecamere e tacquini che magari in altre occasioni sarebbero state altrimenti occupate. Ringrazio Massimo, Alessandro, ho visto che poi ci sarà un approfondimento su Torino, su Padova, ci saranno testimonianze dai quartieri, da Ascoli, quindi è giusto unire il Paese perché me ne rendo conto anche io al Ministero, ogni tanto qualcuno pensa che sia tutto Roma, Milano, le grandi città, 5.000 comuni italiani, in Italia meno di 5.000 abitanti, io lo vedo perché adesso in ufficio al Ministero Portapia torno a occuparmi di PNRR, questi acronimi, e di PINQUA che sono i piani di riqualificazione dell'abitare che in 150 città si occupano dei quartieri popolari, a punto di vista da Trieste alla Mezzia Terme, passando per Brescia e lì è debito sano perché vai a sostituire gli ascensori, vai a riqualificare i sottotetti, vai a rimettere sul mercato dell'edilizia residenziale e sociale una quota a parte di abitazioni che invece ne erano state espulse, però appunto noi quotidianamente lavoriamo con i sindaci perché l'ufficio tecnico di un comune come Milano, Roma, Padova o Torino è di un certo conto, l'ufficio tecnico del comune sull'Appennino di 1.500 abitanti, ecco quel sindaco è già tanto se ha un vigile urbano, un geometro, un segretario comunale, quindi è chiaro che su sia diarietà e autonomia significa ricordarsi che l'Italia è quella dei piccoli comuni, dei borghi, delle aree interne, perché fare cooperazioni a Milano, a Roma è ovviamente fondamentale e bello, fare cooperazione nei piccoli borghi è più complicato, quindi noi due anni fa ci siamo posti la domanda come aiutarvi, non come lo Stato si può sostituire al mondo delle cooperative che ha, ne parlavo con Maurizio, mezzo milione italiani oggi sono o proprietari o inquilini grazie al mondo delle cooperative, quindi abbiamo fatto due o tre scelte, uno che è già in legge di bilancio dell'anno vigente, conto che verrà confermato in legge di bilancio che stiamo cominciando, che è quella sulla sperimentazione su nuovi modelli di edilizia residenziale, l'abbiamo costruita insieme perché l'approccio che ho tenuto in questi quasi due anni al Ministero dell'Infrastruttura e dei Trasporti su tutto è stato di ascoltare, coinvolgere, aprire tavoli, teoricamente quando uno sente si è aperto il tavolo allora vuol dire che la soluzione è di là da venire, e invece abbiamo dimostrato, faccio l'esempio del codice degli appalti, costruito insieme al mondo della produzione, del sindacato, della cooperazione, dell'associazionismo, è legge dall'anno scorso, oggi pomeriggio abbiamo un'altra sessione con 70 operatori per il correttivo al codice degli appalti che riguarda anche il mondo delle cooperative, i consorzi e quindi anche su quello stiamo ragionando. Codice della strada l'abbiamo costruito anche lì dal basso, esattamente nella stessa maniera, conto che diventi norma entro l'attuale autunno, salva casa che riguarda l'edilizia privata, anche lì l'abbiamo costruito dal basso e lo unisco al piano casa dove tu Alessandro, non come Alessandro ma come cooperative sei titolare in uno o più tavoli, abbiamo fatto due riunioni plenarie, l'obiettivo ambizioso l'abbiamo chiamato piano casa Italia, adesso sono stato all'assemblea di Confindustria la settimana scorsa e anche il presidente di Confindustria Orsini ha chiesto un grande piano di edilizia per i lavoratori, perché spesso e volentieri un handicap, un vincolo, lo vedo anch'io come ministro, quando deve arrivare un nuovo ingegnere di 25 o 30 anni o anche un dirigente come arriverà dal comune di Milano a occuparsi delle motorizzazioni civili, il primo grande ostacolo è l'abitazione, è un ingegnere di prima nomina al Ministero Infrastrutture e Trasporti che ho scoperto, non lo sapevo è uno di quelli che paga meno fra i ministeri, non ho ancora capito perché stiano cercando di adeguare, chiaro che se io do a un ingegnere di 28 anni 1600 euro o sei di Roma e hai casa di proprietà o se poco a poco arrivi da Milano, da Trento o da Padova 1600 euro ti vanno di vitto, trasporti e alloggio. Quindi intorno ai tavoli del piano casa che non è un trattatello sociologico di come stavano meglio i nostri genitori, adesso c'è il disagio a Quartogiaro, a Torpignatara, abbiamo coinvolto anche i settori economici, banche, istituti di credito, i grandi proprietari che non sempre sfruttano come con l'attenzione condominiale di conf cooperative, penso a Cassa Depositi e Prestiti, penso alle grandi casse e agli enti previdenziali, ai grandi proprietari, IMSS, INAIL e Nasarco, insomma a quelli che posseguono non alcune decine di unità, alcune decine di migliaia di unità immobiliari per matchare il pubblico e il privato su parità di rispetto, mio obiettivo è di arrivare in Consiglio dei Ministri a ottobre con questo quadro per poi applicarlo entro l'anno. Il salva casa che riguarda il privato, ero all'assemblea di confedilizia, ovvero sono due mondi che però si sfiorano ovviamente perché se non c'è certezza delle regole sull'affitto privato evidentemente poi c'è una quota di mercato che si rivolge all'affitto pubblico evidentemente, quindi non più solo edilizia residenziale ma sociale perché ormai il target, il livello di bisogno, quello che era bisogno ma non abbastanza bisogno, la fascia grigia, noi stiamo lavorando al tavolo del piano casa per la via di mezzo che non riesce ad andare sul privato su immobiliare.it vado e o compro o affitto, però non è neanche abbastanza in difficoltà per rientrare nei canoni, i sei, i figli e le sventure per l'edilizia sociale e si sta drammaticamente allargando la cosiddetta fascia media e quindi lì noi stiamo cercando di ragionare come coinvogliare energie e fondi privati che vogliono guadagnare, ma è il ragionamento che sto facendo io sulle infrastrutture, è chiaro che se coinvolgi il fondo mordi e fuggi che vuole realizzare entro tre anni e allora non è né l'infrastruttura, la ferrovia o il ponte sullo stretto o il quartiere di edilizia residenziale, il suo obiettivo, però ci sono anche, e ripeto penso alle casse e gli enti previdenziali che devono garantire una quota però senza fare avventure finanziarie, lì sì si può smobilizzare del capitale che magari adesso va in Irlanda, va in Lussemburgo, va dall'altra parte del mondo perché è una rendita a 30 anni magari non del 6% ma del 2% se investi in cooperazione edilizia ce l'hai, ecco quindi è chiaro che in due anni miracoli non li fai però penso che abbiamo fatto un buon lavoro insieme, dico abbiamo fatto perché se si rimette in moto il mercato non è merito del ministero ma è merito di un lavoro di squadra, quindi continueremo ad attingere al vostro sapere perché ovviamente 70 anni di esperienza valgono 18 lavori a tavolino di grandi società di consulenza e quindi mi piace poi e chiudo l'approccio sia di Maurizio che del Buon Magioni non è ideologico, cioè non c'è il privato, il capitale privato, la speculazione che è il nemico da abbattere per cui arriva lo Stato che ti entra anche in mansarda. Cerchiamo di essere equilibrati, l'abbiamo fatto col salva casa, lo stiamo facendo col correttivo del codice appalti, sul piano casa Italia, io sono fermo agli anni 70, mi sono studiato i dossier, un grande piano di edilizia popolare, tu parlavi di Messina, ecco quello che sto cercando di fare da ministro dell'infrastruttura è che si occupa ovviamente dei treni pendolari, delle autostrade, della Pontina, della Roma Latina, però è anche di capire quello che c'è di fianco alle infrastrutture, tu parlavi di Messina e di Reggio, il distretto della grande area metropolitana Messina, Reggio Calabria che arriva a mezzo milioni di abitanti che ha due dei tassi di disoccupazione giovanile più alti non d'Italia ma d'Europa, Messina e Reggio Calabria perché lì l'opzione per molti ragazzi è mi diplomo e poi scelgo al massimo sto ancora lì all'università perché sono ottime università, quelle sia sulla sponda siciliana che quella calabrese ma poi alla fine o col diploma o con la laurea la scelta è dove vado, cioè non cosa faccio a Messina o a Reggio, dove vado in Italia o all'estero, ecco alcune infrastrutture sono moltiplicatori di opportunità di crescita sociale e di stabilità sul territorio perché noi possiamo parlare di demografia e fare 6 mila convegni se non c'è opportunità di crescita, l'ascensore sociale, stabilità lì è chiaro che non vai lontano e tenete presente siccome parlavi giustamente di Messina che il ponte come manufatto è solo un terzo della spesa che invece ricadrà sui territori perché arriveranno ospedali, palestre, centri culturali, tre fermate della metropolitana quindi quella diventerà un distretto e il mio obiettivo è che fra dieci anni i ragazzi che si diplomano laureano a Messina o a Reggio possano scegliere se andarsi o non stare lì perché anche lì ci sarà un incubatore di sviluppo che grazie a un'infrastruttura porta alla residenza, porta commerciale, porta al turistico, leggevo nella vostra nota anche il dibattito affitti brevi, affitti lunghi, over tourism, io non sono per i divieti, io sono un liberale quindi per quello che mi riguarda ognuno deve poter essere messo in condizione di mettere a reddito il suo immobile anche perché la casa in Italia penso che sia già abbastanza tassato, ovviamente occorre trovare un equilibrio, è chiaro che se l'incasso dell'affitto a lungo termine è tassato in una certa maniera e soprattutto non ha certezze in caso di mancato pagamento è chiaro che tutti si buttano nelle grandi città e allora chi me lo fa fare di tenere fermo per tre anni il mio immobile e poi se non mi pagano chissà cosa succede, preferisco farlo di tre o quattro giorni però lì si trasformerebbe l'Italia in un grande parco giochi che non è esattamente l'obiettivo che ha il mio ministero e il nostro governo, quindi non la faccio lunga anche perché là di dossier ne abbiamo, oggi alle due e mezza c'è una riunione ripeto sul correttivo codice appalti che poi entra anche in tutti i vostri dossier, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro non 70 anni ma un'eternità di cooperazione, grazie. Grazie, grazie al ministro vicepresidente. Adesso ho Grazie a tutti. Grazie a tutti.